Scusate per il ritardo ragazzi, però non potevo perdermi assolutamente il post partita del ritiro al calcio. Avete sentito bene? Del ritiro al calcio di Zlatan Ibrahimovic. Momenti veramente da pelle d'oca. Prima un video per celebrare tutte le sue giocate con il Milan, dopo il ringraziamento del pubblico che è stato un applauso veramente infinito. E possiamo veramente tutti ritenerci fortunati per aver visto nascere, crescere e soprattutto incantare tutti gli stati del mondo. Un giocatore unico e incredibile come Zlatan Ibrahimovic. Parlare della partita di stasera mi sembra superfluo. È stato come un passaggio di consegne nel giorno dell'addio di Zlatan. Rafa Leao, fresco di rinnovo, fa due gol da fenomeno e va ad abbracciare Zlatan ringraziandolo. È stata veramente bellissima un'immagine che ho visto nei social ieri dove praticamente si vedevano all'arrivo di Zlatan a Milano. Teo e Leao, bambini, se ne va Zlatan, lascia due campioni, due giocatori fatti e finiti che grazie a lui sono riusciti a incantare il pubblico di San Siro. Ragazzi non penso ci sia ancora qualcosa da dire per quanto riguarda la partita di oggi perché tutta l'attenzione per Zlatan che al contrario di tutti i pronostici già si pensava il contratto a Monza è già fatto, Gagliani lo trattasse di telefonate in realtà lui dà l'addio al calcio e secondo me lo dà in maniera perfetta facendo anche una sorpresa alla Zlatan Ibrahimovic lui che di sorprese è sempre stato un dio Ibra Cadabra così lo chiamavamo e così sicuramente verrà ricordato chissà cosa il futuro riserverà un campione così incredibile forse entrerà nella scudere di Raiola forse entrerà magari tra qualche anno in società al Milan in una magari figura tra allenatore e squadra per caricare l'ambiente ho la voce che mi trema perché non riesco a dirgli addio grazie a tutti per il video che ho spartito scusate se non faccio le mie solite analisi però veramente in questo momento l'unica cosa che ho dentro è tanta nostalgia, tristezza perché campioni così sicuramente non se ne vedono tanti grazie a tutti